buongiorno a tutti da svizzerando 360 eccoci qua in questo nuovo appuntamento e vi farò un po' vedere le cose che costano poco qua in svizzera faremo un piccolo tour di di negozi di negozi vari tipo il radical la lidl il denner e il fust un negozio di elettrodomestici e elettronica così vedremo un po di confrontare i vari prezzi in italia partiamo dal radical che è uno dei posti che costa veramente poco diciamo che a livello delle nostre cinesate nostri centri commerciali cinesi andiamo a vedere qua cominciamo dal reparto del dei vestiti cominciamo a vedere qualche prezzo poi ci sono asciugamani questo ma gli asciugamani come detto i prezzi comunque all'incirca non sono elevatissimi il tessuto sembra buono 14 9 franchi su gaminini più piccoli 2 franchi e 50 eccetera poi ci sono i reggiseni ci sono da 10 franchi da 20 13 e così via altre magliette tutte 10 ad esempio la maggior parte 7 franchi pantaloni per le donne tessuto da 5 franchi pantaloni per uomini da 12 pantaloni per le donne tessuto da 12 Sei, cinque, cinque franchi, tre pari, mutande, otto franchi, box, dieci franchi, 39 franchi, anche le scate qua sono abbastanza convenienti, ovvio, ci sono alcune marche, Polo, Asics, della Nike anche molto convenienti, tutte sui 49, 50 franchi, disposti in numeri, molto anche, ci sono anche carini, alcuni zaini, materiali per la palestra, questo zaino, 79 franchi costa, poi vabbè qua la roba per la scuola, per i bambini, per scrivere, eccetera, anche qua vedete le bicchie, invece di 5,40, 3,90, anche qua altra cosa per la scuola, un franco e 90, un mega rigallone professionale, da 10 franchi, quanti calcari, per 7 franchi, per 7 franchi, all'incirca, sgrassatori vari, per 5,90, vedete anche voi, per pulire del grasso, gli sgrassatori, 7,90, in base al tipo questo, 1,2 ricariche, 9, 3 per i vetri, 9, palmolive, un franco e 95, vedete, finish, 11,95, non so quanto costa in Italia però, non penso che sia un prezzo troppo elevato, anche qua, passiamo ai prodotti per la doccia, così, crema soft, tutti 4,80, 4,80 vedete la, le varie promozioni, non so se vedete i prezzi, più o meno, anche questo, di testa nera, più o meno uguale all'Italia, i prezzi originali in Italia non li so questi, perché non, non le conosco, per esempio, tipo le creme della DAV, 2,95, poi quelli della DAV, quelli 1,50, se non sbaglio, costano di più in Italia, se non sbaglio, mega aziende, la poca cosa, l'intero pacco, 9,95, cazzo, vado anche, le lettine della pocola, minchia, 10 franc, 10 franc, poca puttana, poca puttana, anche la Red Bull, capperisonne, 2,95, passiamo alla pasta, 1 kg di spaghetti, 2,95, 1 kg di spaghetti, cartiglioni per 25, si può risparmiare anche qua, qua passiamo ai sughi, su vicirio, passata di pomodoro, rustica, 1,50, 3 pack della barilla, 5,50, e poi qua c'è il reparto frigo, con i vari formaggi, salumi, eccetera, molto piccolo ovviamente, che non è proprio un centro commerciale, però, e niente, qua vedo il ciume, ciume varie, conserve varie, anche qua, una cosa della Molino Bianco, le campagnole della Molino Bianco, 5,95, vabbè, anche in Italia, più o meno costeranno uguali, pacchi di rio mare, 5,75, eccetera, tortellini di formaggio, 1,50, gli snack, 1,95, 1,95, 1,55, 2,90, in base al tipo G, 3,50, e questo era il Radical, e all'ombra del mio Maxi Bon, ci avventuriamo verso il Fust, a vedere se riusciamo a fare qualche ripresa di qualche prezzo, ricordo il Fust è un negozio di elettrodomestici ed elettronica, ci vediamo lì, ciao!